20 euro, la mancetta inutile, serve di più la cassa integrazione. Tre mesi per non pagare la cassa integrazione, un minuto per riavere i vitalizi degli ex parlamentari. Questa è la fotografia di un'Italia malata, in cui tutta la classe politica, con poche eccezioni, sta scavando un solco sempre più profondo rispetto ai cittadini e ai problemi reali del paese. E adesso arrivano le nuove mancette da 20 euro che dal 1 luglio saranno in busta paga. Se qualcuno si aspettava, e noi con lui, che dopo il lockdown ci sarebbe stato uno scatto positivo della classe dirigente, la delusione a oggi non può essere più coccente. Altro che esperienza che ci avrebbe migliorato, è bastato che il contagio allentasse la pressione grazie al sole e al siapur traballante rispetto delle regole del distanziamento, perché tutti i difetti della politica italiana tornassero ad emergere. Prima, fra tutti, la demagogia più spicciola. L'esempio più evidente sono proprio le modifiche nella busta paga che hanno fatto scattare una gara a chi la sparava più grossa fra i ministri. Aveva cominciato quello dell'economia, Roberto Gualtieri, annunciando di aver ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal 1 luglio gli stipendi aumenteranno. Per 11 milioni di lavoratori i vecchi 80 euro, quelli del bonus di Matteo Renzi, arriveranno a 100 euro. Ma la vera faccia di bronzo, per enfatizzare quello che è tecnicamente solo un ritocco di una precedente mancetta contro cui aveva fatto addirittura una campagna elettorale, è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che confermando la sua ignoranza in fatto di economia e di politiche del lavoro, annuncia che sarà effettivo il taglio del cuneo fiscale che interesserà 16 milioni di lavoratori. Significa più soldi in busta paga, dice, con aumenti fino a 100 euro al mese. Non sarà la rivoluzione, conclude, ma è sicuramente un importante passo avanti. È incredibile che qualcuno possa credere a queste pagliacciate. Detto che 20 euro è meglio che un dito nell'occhio, bisogna però essere seri e lasciare da parte la demagogia. La gran parte dei dipendenti, e quindi non certo chi è in cassa integrazione, come chi lavora al bar, al ristorante o in hotel, avranno solo 20 euro in più in busta paga. Giusto la mancetta per la pizza e il gelato. L'Italia ha bisogno di ben altro in questo momento. Basta interventi a pioggia all'insegna dell'assistenzialismo. Gli 80 euro di Renzi costavano allo Stato 10 miliardi di euro. Ora, con 100 euro, l'onere sale a 13 e salirà a 16 nel 2021. Un po' poco per definirlo un taglio al cuneo fiscale. Questi soldi non cambiano certo la vita a chi li riceverà, ma avrebbero potuto essere impiegati per sostenere chi è davvero in crisi nera, come tutto il mondo dei pubblici esercizi, dove la maggior parte dei lavoratori non sta nemmeno ricevendo il contributo della cassa integrazione per incompetenza dell'Inps e del Ministro del Lavoro. A conti fatti, questa misura appare solo come uno dei tanti annunci fuori misura di un governo che non ha il coraggio di affrontare la situazione con decisione. Questi E 20 euro fanno il paio con la sparata di Conte sulla riduzione dell'IVA. Peccato che dopo l'annuncio non è arrivato nulla, anche perché dietro c'era davvero il nulla in fatto di vera riforma fiscale. La situazione è che si voglia solo aumentare l'assistenzialismo per meschini calcoli elettorali. Il caso dei pubblici esercizi è evidente. Il mondo dei pubblici esercizi è in una crisi drammatica. Bar, ristoranti e hotel non lavorano e quando lo fanno sono al di sotto dei parametri minimi per sopravvivere. Non possono pagare gli stipendi e gli affitti. Cosa fa il governo? Permette agli statali e ai bancari di restare a casa a lavorare. Così saltano tutti i pranzi di lavoro nei centri urbani. E promette cassa integrazione, che non paga regolarmente, e che dice di voler spostare il periodo di copertura fino a dicembre, bloccando anche i licenziamenti. Ma i soldi in cassa non ci sono, mentre ci sono per i 20 euro di mancette. Eppure ci sarebbe un modo quasi a costi invariati per dare una mano vera alle imprese. Girare i soldi della cassa integrazione alle aziende, perché paghino i dipendenti, facendoli lavorare e aumentare il livello e la qualità del servizio. Usando la decontribuzione, questo intervento allo Stato costerebbe lo stesso. Ma bar, ristoranti ed hotel potrebbero avere un personale capace di fronteggiare meglio la riorganizzazione del lavoro imposta dal Covid-19. È necessaria una riforma, ma invece si pensa alle mancette dopo aver messo in ginocchio l'Italia con il reddito di cittadinanza. Basta assistenzialismo, bisogna sostenere le imprese.